Le motivazioni le abbiamo già lette, prego, siete all'abbracci, hanno coperto le parole. Grazie. Come amore, che significa amore mio? Avevamo provato, che lei doveva dire, amore mio aiutami, io correvo, invece niente, si è distratta, ma che sei male? Volevamo fare la reclama al nostro ultimo film, amore mio aiutami, è una cosa mamma mia che mi ha fatto faticare, dormivo la notte, mi svegliavo con degli incubi, credevo veramente di essere sposato, ma che sei matto con qui? E invece no, 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 c'ho quasi 90 anni e sono ancora signorino io.